Pensaci tu, tieni gli occhi bene aperti. Qualunque cosa si muova, falla subito a pezzi. Fa quello che devi fare, hai capito? E' un po' di velocità, non si può riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Se la pietra è riuscita, non si può riuscire a riuscire a riuscire. E' un po' di riuscire. Sì! Binkowski, occhi aperti su quel campo, destra. Lord One Five, ricevuto. Tenete d'occhio quegli alberi laggiù. Andiamo a prenderci quell'incrocio. Arriva! Cessate il fuoco. Obiettivo distrutto. Se n'è un altro, qualcuno lo vede? Trovato! 15 gradi in basso. Pronto! Pronti! Fuoco! Arriva! Pronto! 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 Grazie per aver guardato il video! Sì Indietro, indietro! Vai, vai, vai! Andiamo, andiamo, andiamo! Ah, guarda, ho smasso! Che va l'è? Ci viene incontro! Perforante, 400 metri! Fuoco! Hanno colpito Peterson! Volevo decci! Vai a... Vai a metterti dietro di lui! Se ce la fai, lo distruggiamo! Vai, vai, vai! Sta girando, sta girando! Devi superarlo! Sono colpiti! Gira a destra! Gira a destra! Devi sparare al mio comando! Ricevuto, ricevuto! Lì è più sottile! Indietro, indietro, a sinistra! Dait! Bibi, affronto! Fermo! Occhi, capirà! Vai! Arriva! Ce l'abbiamo fatta, non è vero, Boyd? Ce l'abbiamo fatta! So... Non c'è nulla, non c'è? Sta attento! Prendilo con le mani! Gris Gun! Gordo, fate il conto delle munizioni! Eccola! C'è solo questa! No, ne abbiamo un'altra! Avvicinatevi! Ora! Fiddleston, lato destro! Gira a destra! Devi, sta a sinistra con me, al mio fianco! Andiamo agli incontro, muovetevi! Fiddleston, lato sinistro! Fiddleston, lato sinistro! Fiddleston, lato sinistro! Kakuma retele! Maori, sempre lato! Da io! Vana datta no ka? Heee? Ah! Fai! Grazie a tutti! Grazie a tutti!